Ciao ragazzi, ciao! Siamo qua nei pressi di Reggio Emilia sempre a visitare questo espaccio dismesso, sembra giusto padrone. Oh, hai sentito? Sì, sì. Pensato. Ho visto qualcosa a muoversi. Probabilmente era un uccello. Andiamo avanti. Che uccello? C'è l'invito di Anglia. Non quello che pensavate voi. Qua c'è un po' di sconetta, però potete notare che non stai finito in cura, non stai finito in cura. Aggiungendo perché qua c'è... Che affetto c'è qua? Venga, Don, mi permetterò meglio... C'è un rumore inquietante. Siamo pronti per andare. Oh, oh... Ma ragazzi... Chi è stato? Chi è stato? Ah, sta bene. Per il latte. Sì. Solo che non si vede male con la luce. Ridominami. Questa è una caldaia. La tonnessazione. Perché devi farti del male? No, è chiusa. È inaccessibile. C'è un materasso. C'è una porta razionale, ragazzi. C'è una porta razionale. C'è una porta razionale. Il domani è rimasto incastrato. Lo lasciamo qua? Però si è armato. Un'altra porta razionale. Un'altra porta razionale. Un'altra porta razionale. Ma vogliamo capire cosa stavano? Cosa era un espositore del fritto? Cosa era un'altra porta razionale? No. A me questa mi sembra di puzza di merda. No. Sarà l'odore rimasto nel latte. Eh? L'odore del latte. Chi è? Cosa sta? Stavano sempre sotto io. No. Sì. Ce la faccio qui. Stavano anche avendo buio. A dire che no. Purtroppo la luce fa un po' di appannamento. Ma come volete vedere qua ci sono delle cupelle. Non disturb. Ma ci sono dei vestiti. Ah, di qualcuno che le lasciate qua. C'è una collotta. Vediamo che dove era. Mi illumini. Sì. facciamo la sala moglie ho preso della qualche bottiglia ha fatto festa ci ha fatto dei riporti le messe satana ho fatto un buco ma poi si mettevano il formaggio stagionare se tavola vada su lei padrone non dare botte contro i muri perché qua ci casca tutto addosso prima il trattopiano non ci andiamo è meglio di no perché casca il tetto ultime parole famose ma qui c'è la corrente qui ci sono altre bottiglie questo è uno di alas dove vanno quante bottiglie ci sono ci sono molta paura delle robe ci potrebbe aver fatto male anche io qui c'è un 66 io ero qui tanto ero un signore che cazzo hai vai avanti vai avanti cazzo hai cazzo hai visto cazzo hai visto dovevo riletto che c'è quello lì beh per andare avanti certo che se non devi fare in silenzio tu non sull'accento'ora provare un'altra bottiglia non voglio trovare robe nei punti certi vieni qua tutto bene c'è nessuno che è successo dei rumori molesti qualche disturbatore del vino è riuscito a ventilarsi non ho capito perché hanno colorato qua per renderlo più accogliente attenzione al tetto che viene giù no no questi mattonelli qua c'è scritto se hai coraggio entra non ce l'ho il coraggio c'è un buco codiglia cazzo vai di mortazzi merda è caduto il tetto ragazzi entra qua dove dicono che serve il coraggio no era qua che entrava qua casca il tetto cazzo scendi scendi ciao cazzo cazzo tutto niente diamo se una lampadina sei fuori non far danni qua viengi tutto di qualsiasi lascia l'arma lascia 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 di niente veramente inquietante veramente inquietante